ELECTION DAY A GIUNIO AMMINISTRATIVE ACCORPATE ALLE EUROPEE SI VOTA SABATO 8 E DOMENICA 9 VIA LIBERA AL TERZO MANDATO DEI SINDACI NEI COMUNI TRA 5.000 E 15.000 ABITANTI TOLTO IL LIMITE SOTTO I 5.000 VILLADOGNA MARZO IL VIA I LAVORI PER RICUALIFICARE IL FABRICATO VICINO AL COMUNE A INIZIO FEBRAIO SI SPOSTA LA BIBIOTECA DIVERSI CANTIERI IN CORSO PARTITE ANCHE LE OPERE PER EVITARE L'ESONDAZIONE DEL SERIO NELLA ZONA DELLA FESTI RASINI UNA GIORNATA PER CONOSCERE DA VICINO LA MARINA MILITARE A ROGNO IN PAESE Infatti è arrivato il centro mobile multimediale Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2 Lo avete sentito dai titoli un'importante decisione attesa dai comuni ormai pronti ad andare al voto nei prossimi mesi tra cui tanti del nostro territorio Il Consiglio dei Ministri nella giornata di oggi, giovedì 25 gennaio, ha stabilito la data per le prossime elezioni con una grossa novità per i paesi tra i 5.000 e i 15.000 abitanti e per quelli sotto i 5.000 Nel decreto legge viene stabilita la possibilità che le elezioni amministrative insieme a quelle europee si svolgano l'8 e il 9 giugno Nello stesso provvedimento viene stabilito che tra i 5.000 e i 15.000 abitanti un sindaco potrà arrivare al terzo mandato sotto i 5.000 viene invece eliminato il limite La decisione del Consiglio dei Ministri potrà riguardare comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti come Alzano Lombardo, Nembro, Costa Volpino, Clusone, Sovere e Gandino che però non andranno al voto questa primavera Tra i comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti pronti a tornare alle urne con sindaci che potranno avere la possibilità di vedersi rinnovato il mandato per la terza volta troviamo Villa di Serio con il sindaco Bruno Rota Sfuma invece la possibilità per Fabio Terzi di gareggiare per la terza volta per il ruolo di sindaco della città di Albino superiore a 15.000 abitanti Cambiamo argomento A Villa D'Ogna i lavori per riqualificare il fabbricato vicino al comune partiranno a marzo a inizio febbraio si sposta la biblioteca Sono diversi i cantieri in corso in questo periodo in paese segnaliamo le opere ad esempio per evitare l'esondazione del serio nella zona della Festi Rasini Abbiamo fatto il punto con il sindaco Luca Pendezza Sono partiti diversi cantieri in questo periodo sul territorio di Villa D'Ogna altri ne sono in arrivo l'intervento più importante sicuramente è il restauro conservativo dell'edificio che ospita la biblioteca Esattamente da ormai tanti anni che parliamo della riqualificazione messa in sicurezza e appunto restauro conservativo dell'edificio che ospita la nostra biblioteca comunale e tante associazioni del nostro paese un edificio particolarmente utilizzato dalla nostra comunità finalmente andiamo a riqualificarlo i lavori partiranno come dicevo anche in altre occasioni nel mese di marzo in questa occasione voglio avvisare la cittadinanza che visto l'importante lavoro che si andrà a fare appunto a partire dal mese di marzo ci saranno alcuni disagi in quanto la biblioteca verrà temporaneamente spostata in un altro luogo abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo deciso di spostarla temporaneamente nel locale adiacente all'ingresso del municipio che era la vecchia sede della proloco di Villa Donia ovviamente ci saranno il servizio verrà un attimino ridimensionato però intendiamo comunque garantire il servizio dal primo febbraio quindi la biblioteca si sposterà in questi in questi spazi giorni prima quindi dal 27 al 31 di gennaio invece la biblioteca resterà chiusa al pubblico per garantire per consentire appunto il trasloco di parte dei libri e appunto degli arredi quanto dureranno i lavori quando la biblioteca tornerà nella sua sede? sì i lavori sono particolarmente importanti stimiamo una durata di lavori tra i 5 e i 6 mesi quindi in quanto appunto verranno completamente rifatte le facciate esterne e anche a livello impiantistico sarà lavoro importante soprattutto sul piano terra quindi ecco chiediamo un pochino di pazienza per questi 5-6 mesi di intervento però sicuramente avremo dei locali più riqualificati e sicuramente più idonei gli spazi che vengono destinati e poi ci sono diversi altri cantieri che sono già in corso facciamo un veloce riepilogo un veloce riepilogo sono partiti tanti cantieri in questo inizio 2024 a partire dalla mensa scolastica all'edificio della Pensilina sono partiti i lavori anche agli alvi del fiume Siero e del fiume Onia stanno procedendo anche i lavori di riqualificazione della SP51 in carico alla provincia di Bergamo in questo momento stanno riqualificando e allargando il tratto sostanzialmente adiacente al cimitero di Villa Donia un altro intervento, questo in carico a una ditta privata invece, è la posa della fibra ottica anche qui ci saranno un po' di disagi in quanto i lavori dureranno due o tre mesi ci saranno alcune chiusure temporanei tramite impianti semaforici delle strade del comune però ecco un intervento importante che porta finalmente la fibra ottica anche sul territorio di Villa Donia quindi chiediamo un pochino di pazienza ai cittadini e a chi transita da Villa Donia però ecco un intervento importante che consentirà di avere un'infrastruttura importante come quella della fibra ottica domani sera un appuntamento molto atteso ad Ardesio una serata dedicata al lupo e alla sua presenza sul territorio bergamasco in particolare in Val Seriana appuntamento in sala consigliare alle 20 e 30 si avvicina una serata tanto attesa ad Ardesio dedicata al lupo alla sua presenza e al suo arrivo in Val Seriana nell'ultimo anno innanzitutto quindi come verrà trattato l'argomento? Chi sarà ospite? Buongiorno ci sono vari ospiti naturalmente io che rappresento l'associazione per la tutela dei cittadini dai grandi carnivori ci sarà il professore Michele Corti ci sarà anche Giacomo Zamperini consigliere regionale in regione Lombardia e il consigliere regionale Michele Schiavi poi ci sarà anche il presidente del parco delle robie bergamasche che nonché sindaco di Ardesio che è l'amico Ivan Caccia la serata verte naturalmente sul problema lupo che si è affacciato in maniera molto prepotente sulle nostre Alpi e Prealpi Orobiche la situazione per il momento sembra sotto controllo ma ci sono delle avvisaglie che non fanno presagire nulla di buono noi nei nostri interventi vogliamo fare controinformazione all'informazione che viene data, anzi alla disinformazione che viene data generalmente sui media per quanto riguarda appunto il lupo e i grandi predatori in genere quindi svilupperemo le nostre tematiche, le nostre idee in maniera naturalmente assolutamente responsabile, democratica e ascoltando tutte le varie voci ma sicuramente ponendo l'attenzione sul fatto che il lupo è un animale estremamente pericoloso molto molto pericoloso che ha già superato i vari livelli che il professor Valerius Geist aveva preventivato, ha preventivato per quanto riguarda la sua pericolosità e nel frattempo in Alta Val Seriana continuano gli avvistamenti di lupi ormai diventati la normalità l'ultimo segnalato questa mattina all'alba lungo la provinciale 49 in territorio di Villadogna a poca distanza dal confine con Ardesio come si vede nelle immagini il lupo ha attraversato la strada per poi dirigersi a Monte della Provinciale Voltiamo pagina una giornata per conoscere da vicino le forze armate oggi a Rogno in paese vicino alle scuole è infatti arrivato il centro mobile della Marina Militare siamo andati a vedere A Rogno il pullman multimediale della Marina Militare spieghiamo che cos'è questo mezzo e anche perché questa iniziativa di andare nei comuni d'Italia e presentare la Marina Militare Buongiorno a tutti, sono il guardia marina Valerio Soggia qui alle mie spalle c'è il centro mobile informativo il pullman multimediale della Marina Militare attraverso cui noi come rappresentanti di forza armata stiamo cercando di diffondere, stiamo riuscendo a diffondere la cultura marinaresca a tutto il paese specialmente nelle località qui come Rogno che non hanno una distinta tradizione marinaresca ma più che altro di montagna all'interno del pullman ci sono presenti diversi schermi interattivi nonché anche una fotocamera che ci permette di immaginarci in realtà virtuale come vestiti da ufficiali di Marina al fine di interagire a maggior ragione con il sito della forza armata su cui troviamo tutte le informazioni per entrare in Marina Militare nonché anche informazioni in generale sulle attività che noi come forza armata stiamo svolgendo attualmente nel Mediterraneo Il ruolo della Marina Militare italiana sta diventando sempre più strategico nel Mediterraneo? Assolutamente sì, l'Italia come paese fulcro dell'Alleanza Atlantica nonché dell'Unione Europea e specialmente dovuta alla sua posizione strategica all'interno del bacino del Mediterraneo andrà a ricoprire una posizione sempre di maggiore importanza all'interno di queste dinamiche internazionali e per questo anche che noi come forza armata stiamo cercando di promuovere sempre di più la conoscenza a tutti i cittadini di quello che noi facciamo e delle attività che stiamo operando Per esempio l'Italia è stato il primo paese che ha portato una nave a soccorrere la popolazione palestinese a fungere da nave ospedale ovvero sia nave vulcano nell'operazione Levante Quindi state cercando di far conoscere sempre di più la Marina Militare e le sue attività in Italia anche con questo tour, anche con questo pullman multimediale? Assolutamente sì Atterrizzo al pullman ogni cittadino, ogni persona che vuole venirci a visitare chiaramente sui siti ci sono indicati gli orari di apertura la mattina cerchiamo anche di fare tour nelle scuole e nei licei al fine appunto di aprirci sempre di più alla popolazione e di coinvolgere tutti nelle attività che noi andiamo a svolgere ogni giorno Perché avete voluto riportare questa iniziativa in paese? Beh, crediamo che sia una bella iniziativa una possibilità per i ragazzi residenti non solo a Aronio ma per tutto l'Alto Semino, la Valle Camonica che fossero interessati anche a partecipare ai bandi per entrare nell'Accademia sotto ufficiali o ufficiali è un'opportunità importante per incontrare una delle nostre forze armate e far conoscere appunto il loro lavoro sempre più piace questa idea di poter avvicinare quello che è lo Stato ai cittadini perciò questa è solo una delle iniziative tra pochi giorni faremo la consegna delle borse di studio ai nostri studenti meritevoli e in quell'occasione avremo anche l'onore di avere ben due consoli che saranno presenti alla serata insieme a un europarlamentare, a una parlamentare, consiglieri regionali questo penso sia la formula più bella per far capire ai cittadini e ai ragazzi soprattutto quello che è la struttura dello Stato perché è fondamentale per la formazione e per creare i cittadini del domani quelli che saranno a loro volta gli amministratori e i politici del domani Ricorre domani l'anniversario della battaglia di Nikolaevka scontro tra le forze italo-tedesche e le truppe sovietiche durante la seconda guerra mondiale migliaia di soldati italiani persero la vita o vennero fatti prisionieri A Castione una serata per ricordare l'episodio, quello scontro anche grazie al ricordo di quattro alpini del paese reduci della Russia Sentiamo A Castione un incontro per gli 81 anni della battaglia di Nikolaevka durante la ritirata di Russia nella seconda guerra mondiale Un incontro con Sergio Rossi, autore del libro Sei alpini e un fante nel vertice della seconda guerra mondiale Di cosa si parlerà domani sera a Castione? Allora domani sera è il 26 gennaio È una data importante per la memoria degli alpini Infatti anche la giornata che ricorda la memoria e il sacrificio degli alpini È un episodio tragico della seconda guerra mondiale che ha avuto luogo nella lontana Russia meridionale sulle sponde del fiume Don là dove 230 mila soldati italiani fra cui tre divisioni alpine sono state inviate a fianco dei tedeschi che volevano distruggere l'Unione Sovietica Gli alpini sono andati incontro assieme alle altre divisioni di fanteria italiane a una tragica ritirata che li ha decimati e il ricordo di questa tragedia alpina continua a essere molto vivo e quindi domani sera nell'81esimo anniversario della battaglia di Nikolaevka poi dico di che cosa si tratta io presento le interviste che ho realizzato 35 anni fa ad alcuni reduci alpini dalla Russia che raccontano anche gli stenti, le pene della ritirata e soprattutto l'epica giornata di Nikolaevka quindi domani sera alle 20.30 presso la scuola elementare di Castione io presenterò e leggerò parte di questi racconti di alpini che sono stati pubblicati tra l'altro anche in questo mio volume Sei alpini un fant nel vortice della seconda guerra mondiale perché sono racconti che io ho trascritto dopo aver registrato le loro voci dopo aver intervistato per molte ore alcuni di questi alpini reduci che sono poi posso dire anche che sono Isidoro Ferrari, Antonio Migliorati, Giovanni Battaglia e Virgilio Tomasoni quindi è importante andare a vedere di che cosa che tipo di sofferenza, di patimenti, di disavventura hanno vissuto i nostri alpini Nikolaevka è un luogo di una battaglia non di una battaglia offensiva ma una battaglia difensiva perché gli alpini, in particolare gli alpini della divisione tridentina che comprendeva i nostri alpini delle nostre vallate erano già da diversi giorni, da una decina di giorni in ritirata, a piedi, nel gelo, senza cibo sotto gli attacchi dell'armata rossa e dei partigiani e disperatamente cercavano di marciare verso ovest per sfuggire all'accerchiamento e alla distruzione a Nikolaevka sono riusciti a sfondare il tentativo sovietico di bloccarli completamente di accerchiarli e di fare i prigionieri quindi sono riusciti a sfondare le linee sovietiche e almeno in parte a mettersi in salvo A Casnigo la giornata dedicata al patrono civico San Sebastiano si è conclusa con un momento dedicato agli sportivi e agli studenti del paese c'eravamo anche noi Una serata tra sport e studio a Casnigo l'appuntamento organizzato dall'amministrazione comunale è andato in scena al cineteatro dell'oratorio un momento per riconoscere il merito e l'impegno di chi si sa distinguere a scuola e come atleta Siamo alla terza edizione di sport e studio e in questa serata sono stati premiati gli studenti particolarmente meritevoli abbiamo assegnato esattamente 18 borse di studio e gli sportivi che si sono distinti per meriti sportivi nell'anno del 2023 e quindi in occasione della festività di San Sebastiano abbiamo unito questa iniziativa proprio per il completamento della giornata in una giornata importante per quello che è il patrono civico con tutte le sue declinazioni perché sport e studio sicuramente non è a mio parere personale ma è così è uno splendido connubio fatto di valori che valgono sia nello sport che nello studio dove vengono esaltati il talento e anche la preparazione quindi l'impegno per raggiungere certi risultati sia in campo sportivo che in campo appunto dello studio della formazione della persona La prima parte della serata è stata dedicata allo sport con le premiazioni di Enrico Maria Frana e Andrea Guidi per i loro risultati nell'equitazione e nel tiro a volo premi anche per i ragazzi dello Sciclub Val Gandino in particolare Riccardo Lanfranchi e Anna Rossi per le loro vittorie nello scialpinismo sempre i ragazzi protagonisti a seguire con la mountain bike premiati Daniele Inberti e Raffaele Antonini della ciclisti Val Gandino infine un riconoscimento per Gregori Falconi specialista nel lancio del martello sono seguiti i premi al merito scolastico del comune i riconoscimenti agli studenti sono stati consegnati da Flavio Moro autore di libri e opere teatrali lo stesso Moro è stato poi premiato dal comune per la sua attività e i diversi premi vinti in concorsi letterari a seguire ancora la scuola protagonista con le borse di studio alla memoria di Luigina Rossi e Ines Mignani infine di nuovo lo sport al centro per il decennale della corsa Dol Remet con atleti e organizzatori premiati anche Paolo Poli per i successi nella corsa in montagna e Martino Cattaneo per i risultati conseguiti nel 2023 e per la sua attività nella promozione dello sport in paese Una bella novità a Pradalunga fermo dagli anni pre-covid riparte il teatro dell'oratorio riparte l'attività sabato l'esordio della Compagnia dei Limoni con lo spettacolo Istericamente Fobici Il 2024 ha iniziato con una bella sorpresa a Pradalunga grazie a persone che si sono messe in gioco per ridare slancio al teatro dell'oratorio Sì, abbiamo deciso di far ripartire un pochettino la programmazione del teatro perché avendo appunto una struttura che effettivamente era attrezzata per fare un po' di animazione un po' di spettacoli abbiamo deciso di riportarla in auge abbiamo costituito un gruppo di ragazzi e di volontari che si danno da fare e abbiamo iniziato questa sfida speriamo che ci porti bene Quindi avete già iniziato con che cosa? Sì, abbiamo iniziato a fare un paio di spettacoli uno riguardante i bambini quindi uno spettacolo prettamente per bambini piccoli e abbiamo fatto un secondo spettacolo con un concerto tributo ai nomadi che è stato sabato scorso che è andato molto bene L'obiettivo è quello di allargare quindi i vostri spettacoli nella media valseriana Sì, allora l'obiettivo è quello di far rivivere un pochettino le animazioni e gli spettacoli portare un pochettino di novità un pochettino di soluzioni simpatiche nel paese e di far ripartire un pochettino anche la voglia di cultura che c'è quindi questo l'abbiamo iniziamo in maniera molto soft quindi con tre organizzazioni mensili per cui uno spettacolo teatrale al mese uno spettacolo di concerti al mese e uno spettacolo per i bambini al mese e poi pian piano vediamo se la gente apprezzerà andiamo avanti questa compagnia dei limoni nasce da Bergamo e arriva a Prada Lunga per un esordio esatto questa compagnia nasce a Bergamo da un progetto di cinque persone che dopo un percorso di studi teatrale ha voluto continuare e organizzarsi con una compagnia teatrale chiama me l'anno scorso come loro regista e insieme abbiamo organizzato questo spettacolo che debutterà sabato 27 qui a Prada Lunga spettacolo quale sarà il titolo un po' la trama lo spettacolo si chiama estericamente fobici è una bella commedia divertente che tratta di due coppie in crisi fra di loro e in crisi personalmente per le loro fobie e paure e l'arrivo della cognata di una delle due coppie ribalterà ancora più la situazione portandola al caos letteralmente nel vostro esordio poi vi verrà protagonisti anche su altri palcoscenici esatto da qui la prima data di questa mini tournée se così possiamo definirla ci sarà una data al mese a seguire saranno poi le date di Boltiere Orio Alserio Bergamo e infine anche fuori provincia andando a crema come mai Prada Lunga come mai l'esordio proprio in Val Seriana beh la Val Seriana personalmente mi lega per altre questioni lavorative e poi appunto ci voleva iniziare questa bellissima collaborazione con il teatro di Prada Lunga che quest'anno è ripartito con la riapertura e allora quale miglior modo di farlo ripartire se non una bella commedia divertente per tutti Niente sculture di neve quest'anno a Val Bondione il poco freddo degli ultimi giorni ha costretto gli organizzatori ad annullare l'evento abbiamo sperato e ci abbiamo provato si legge sulle pagine social di turismo Val Bondione purtroppo però l'innalzamento delle temperature previsto in questi giorni è arrivato davvero rendendo impossibile l'attività di scultura per i nostri artisti ed è così che a malincuore siamo costretti ad annullare il festival delle sculture di neve e tutte le attività che lo accompagnavano Turismo Val Bondione ringrazia la cooperativa Nuova Lizzola che ha fatto di tutto anche di più per avere la neve e inoltre una grazia anche a tutte le attività e le associazioni che si sono messe in gioco e i nostri artisti Andiamo verso la chiusura del telegiornale i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20 Promo Serio Eventi alle 20.05 il programma di motori Paddock a cura di Franco Bobbiese alle 21.30 Stadium lo sport di base si racconta a cura del centro sportivo italiano alle 22 True Italian Experience alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale alle 23.05 classica ma non troppo l'intervista a cura di Roberto Arnoldi alle 23.45 il sasso nello stagno a mezzanotte e mezza la terza edizione del TG e concludiamo con l'almanacco domani è venerdì 26 gennaio il sole sorge alle 7.44 e tramonta alle 17.21 la luna è piena sorge alle 17.53 tramonta alle 9.03 di sabato la chiesa ricorda i santi Tito e Timoteo questa edizione termina qui vi ricordo a seguire l'appuntamento con il TG Sport con la rubrica classica ma non troppo e con le previsioni del tempo grazie per l'attenzione e buona serata grazie a tutti